Ciao, un messaggio dall'Arcangelo Michele per qualcuno che si trova in ascolto. Arcangelo Michele e i quattro Arcangeli. Mimini, Mikael. Umismoli, Gabriel. Milfanai, Uriel. Meorai, Rafael. Ve aroshi, Shekinah el. Un momento di difficoltà è quasi terminato, giunto al termine e queste sfide che stiamo affrontando oggi saranno presto risolte e saremo capaci di guardare al futuro con un sorriso, ma questo implica anche che immaginiamo un futuro radioso per noi, perché già solo facendolo ci verrà da sorridere e ci permetterà questo di aprire il nostro cuore e quindi riconoscere che nessuno è perfetto e quindi anche smettere di giudicarci o di giudicare gli altri, lasciare che l'amore entri in campo, aprire il proprio cuore, sveglia ed è una chiamata al risveglio, una chiamata all'azione della nostra energia creativa. L'Arcangelo Gabriele che arriva anche in due sincronicità questa mattina viene a accendere la nostra creatività e quindi ci aiuta a comunicare la nostra visione, la visione del nostro cuore. E ci motiva a creare qualcosa di meraviglioso e quindi apriamo il nostro cuore, non siamo indifensiva rispetto all'amore, non temiamo di amare anche se siamo stati feriti, perché possiamo essere guariti in questa nostra capacità di amare. E quindi è il caso questo di abbracciare questo musicale magico momento di risveglio, perché siamo nel perfetto spazio energetico per manifestare miracoli e quindi accogliamo e permettiamo ai nostri desideri di essere esauditi, riguadagnando il nostro fuoco, la nostra focalizzazione con l'Arcangelo Metatron e siamo qui per essere radicati in questa nostra verità, aprire il nostro cuore, testimoniare il nostro amore, risvegliare un senso in noi di profonda compassione e accettazione di tutte le cose. Questo accelera la conclusione delle nostre difficoltà in perfetto tempismo, questo è agisci adesso e io sarò qui, in ogni modo e ad ogni passo della via per aiutarti. L'energia generale è sei pronto per ricevere di più e quindi per crescere, ora è tempo di fare quei cambiamenti che stavi meditando, contemplando e questo è il momento di ricevere questa enorme dalia che è anche un enorme mandalia e anche appunto sei pronta per qualcosa di più e quindi anche un mandala quando è il caso di dirlo a ognuno per la sua via. Il 40 naturalmente è una pacificazione con la nostra intuizione e grazie alla nostra intuizione che ci ricorda che tutto in perfetto tempismo viene chiesto anche di portare un'altra carta, naturalmente vediamo che i nostri cari sono al sicuro ma non è questa la carta che mi chiamava ed è questa carta che vuole dirci di abbracciare il nostro proposito esistenziale, il proposito della nostra vita. Quindi siamo guidati con fede verso la nostra vita divina e il nostro divino proposito, quindi a incarnare questo divino proposito e quindi qualsiasi sia la cosa che rende gioioso il tuo cuore, e questo è quello che si suppone che tu faccia e quindi con un 12 naturalmente la creatività, la sincronicità della nostra creatività, la ricezione della trasformazione, la trasmissione, l'espressione vengono abbracciati pienamente con un senso di creazione ed equilibrio e questo è il nostro vero sé e quindi il nostro più grande potere è essere chi siamo e appunto non permettiamo a nessuno di fuorviarci, nemmeno a noi stessi, nemmeno a noi stessi dall'esprimere il nostro sé autentico, l'energia generale appunto tutto è sotto perfetto, protettamente è tutto protetto, è tutto protetto noi e i nostri cari, quindi rilasciamo le paure, le preoccupazioni, non vi preoccupate perché tutto sarà provveduto per voi perché state seguendo il vostro proposito e quindi congratulazioni per l'allineamento, ciao!